parte 14 l'uomo continua a combattere si sforza soffre qui sulla terra per cui è attratto dal suo redentore che gli appare non nello splendore della sua gloria ma in un'indicibile umiliazione egli è presente in sacrificio la cui discesa sull'altare è un oggettivo e vero memoriale della sua passione così il cuore umano peccatore colpevole desidera avere vicino il suo dio ha bisogno che egli non appaia come il dio giusto che vendica il peccato ma come la vittima che ha sopportato le nostre infermità e tolto i nostri dolori sulla quale il padre ha posto l'iniquità di tutti noi così il cuore umano debole afflitto ha necessità che in questa vita finché ne faranno parte la prova il lutto il peccato e la tentazione possa essere in grado di guardare al sommo sacerdote che provato in tutte le cose a compassione per la nostra fragilità ancora una volta non tutta l'umiliazione senza prospettive né tutto il dolore senza speranza perché è il cristo glorificato che vediamo presente nel suo santuario e quindi contempliamo nella sua gloria il pegno della nostra trasfigurazione nella buona stagione come nella vita della chiesa l'oscurità del venerdì santo le gioie della pasqua come nella vita di ogni singolo uomo il dolore e la speranza di salvezza il bisogno quotidiano e la fiducia nella redenzione si susseguono e si mescono fra loro così cristo è qui presente povero umile come una volta fu nella mangiatoia e di nuovo è qui sul trono della sua maestà e gloria perché è lui che ha vinto il mondo che levato sulla croce attira tutti i cuori a sé e davanti al quale tutte le creature si intichinano in adorazione qui è il nostro golgota dove piangiamo sotto la croce il nostro tabor dove costruiamo tabernacoli per ricevere la pace del cielo l'angoscia del gersemani e la mattina di pasqua la morte mistica e la fonte della vita così il nostro salvatore è qui invisibile eppure visibile un dio nascosto eppure evidente ai nostri occhi perché in questo sacramento è apparsa per noi tutta la bontà e l'amore del nostro dio così il cuore umano non ha bisogno di mera umiliazione non di solo dolore e ancora non di semplice esaltazione non soltanto di soddisfazioni perché questa vita terrena non è nell'una nell'altra ma è lui l'amico e sposo delle anime che ha sofferto tutto ciò che l'uomo sopporta ancora di più che nel dolore silenziosamente tuttavia così udibilmente ci dice parole di incoraggiamento nel redentore glorificato che grida a noi abbi fiducia io ho vinto il mondo in lui l'anima impara a capire il vero significato della vita e da lui riceve la risoluzione la forza timolarsi anche con il sacrificio offerto sull'altare ora l'anima comprende il santo sacrificio come la radice e la corona di tutto ciò che è grande nobile e sacro nell'umanità ora prova piacere nel restituire l'amore per amore vita per la vita donandosi in sacrificio a colui che per primo offrì se stesso e tutte le cose in sacrificio per lei così l'altare diventa il santuario della chiesa la fontana dell'acqua viva da cui sgorga tutto ciò che grande e sublime tutto ciò che è glorioso e divino sul vasto mondo sull'altare dove il primo genito fra i suoi fratelli abita sulla sua croce e sul suo trono l'umanità vede il suo modello e il suo futuro tutta la sua storia qui l'umanità comprende tutte le sue sofferenze le pone sull'altare dove l'uomo dei dolori li benedisce e li trasforma in benefici qui l'umanità comprende tutte le sue gioie perché la sua esaltazione è l'esaltazione dell'uomo la sua vittoria è la vittoria dell'uomo nella bellezza del suo corpo un tempo sfinito dalla lotta e lacerato dai tormenti l'umanità vede l'immagine della propria gloria i misteri gioiosi dolorosi e gloriosi che sono rappresentati e celebrati sull'altare dell'ocarestia diventano tante figure della nostra vita come inizia e come trascorre sulla terra e come si proietta nell'eternità perché la vita è fatta di gioie e di dolore che conducono alla gloria eterna gioie e dolori alterni consolazioni prove speranze visitazioni compongono la nostra vita finché tutta la gioia e il dolore terreni cessano finché ciò che è mortale viene assorbito da ciò che è immortale e trasfigurato nella gloria del cielo allo stesso tempo troviamo all'altare un potente aiuto e sostegno per conservare sempre umiltà e gratitudine tra gioie e dolori e non perdere mai pazienza e resistenza in mezzo ai dolori e prove l'amore di cristo ci spinge ci infiamma e ci anima a fare ogni sacrificio quindi con l'aprostolo esclamiamo in tutta fiducia chi allora ci separerà dall'amore di cristo la tribolazione o l'angoscia o la fame o la nudità o il pericolo o la persecuzione o la spada ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati infatti sono persuaso che nessuna creatura potrà separarci dall'amore di dio che in cristo gesù nostro signore